Grazie, mi presento l'openda a questo punto, dato che dall'inizio non ho mai detto i nomi per esteso comunque, ci sto pensando, è una vergogna, tre coche, sei coche, no perché qua c'è una moltiplicazione delle coche, comunque, e non della coca certamente, sto andando un pochettino a temponi con queste battute, e riesca l'uso al basso. Figlio di Gio, detto Jay, detto Gioacchino, detto Gia Gia, Michael Grazia Plena, detto anche Mike Portunoi, mister Paolo Di Imperardo, la voce, la chiamata, dubitavo anch'io che chiamassi così, però. Rock and Roll Mad, lei come ce lo vedi qua? Rock and Roll Mad, lei come ce lo vedi qua? Grazie. 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 Grazie.